Torniamo in diretta con Tempo Reale in una parte finale in cui si parla di sport e quindi chi può comparire quando si parla di sport un po' come il genio della lampada è Roberto Bonfantini, quindi do il buongiorno a te Buongiorno, ma hai dato del genio? No, ti ho dato della lampada Ah ecco, mi sembrava strano In effetti, diamo il buongiorno anche a Stefano Manconi per parlare della Battistelli San Giovanni in Marignano questa squadra che quest'anno è andata oltre ogni aspettativa Eh sì, eh sì, innanzitutto salutiamo il presidente della Battistelli Buongiorno, ben trovato Stefano Buongiorno a voi, grazie dell'invito Allora, diciamo, un campionato da matricola davvero terribile questo primo campionato di A2 della formazione di San Giovanni in Marignano perché non solo avete centrato i playoff Stefano ma addirittura insomma avete vinto nettamente anche gara 1 di quarti di finale con Trento e stasera si gioca la decisiva gara 2 decisiva ovviamente in caso di vittoria della Battistelli lo diciamo incrociando le dita Esatto, stasera affrontiamo gara 2 di questi quarti di finale di playoff promozione forti della vittoria ottenuta martedì a Trento non tanto per il fatto di aver vinto ma proprio per il modo in cui è maturata questa vittoria insomma un 3-0 in cui Trento che comunque ci ha sopravvanzato in classifica nella classifica finale di regular season non è riuscita ad arrivare a 20 punti in nessuno dei 3 set disputati credo che la stagione della nostra squadra insomma si riassuma in questa prestazione cioè in qualcosa di straordinario perché come hai detto giustamente tu non solo abbiamo centrato l'obiettivo salvezza con parecchie giornate di anticipo senza essere stati in realtà mai veramente coinvolti insomma in una lotta per salvarci ma addirittura questo ingresso nei playoff da sesta classificata e questa prima vittoria a Trento sono qualcosa insomma che una squadra costruita l'estate scorsa con l'obiettivo di centrare la salvezza credo abbia fatto qualcosa di straordinario insomma Stefano vi aspettavate tanta grazia nel senso che una stagione come detto con l'obiettivo giustamente da neopromossa di preservare questa categoria e ricordiamo che è stata anche una promozione storica la vostra siete la società del nostro territorio più in alto nei campionati di pallavolo insomma è certo che fare un campionato come quello che ha fatto la Battistelli devo dire davvero qualcosa di straordinario perché non siete mai come giustamente ricordavi stati invischiati nella zona bassa della classifica un campionato sempre di classifica medio alta se non alta potremmo definirlo così sì noi non dimentichiamoci che arrivavamo addirittura da due promozioni consecutive insomma da un doppio salto dalla B2 all'A1 che se per quanto riguarda alla B2 scusa ma non andiamo troppo avanti no 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 assolutamente che se per quanto riguarda il primo scalino insomma era stato era stata anche messa in preventivo la promozione dell'anno scorso insomma non era programmata ecco quindi già è stato un doppio salto veramente epocale in più la squadra era stata costruita per centrare l'obiettivo salvezza e su quel fronte diciamo eravamo molto fiduciosi ecco che la squadra fosse stata costruita bene con le carte in regola per centrarle ma addirittura fare così tanto meglio dell'obiettivo primario che ci eravamo posti nessuno se lo poteva immaginare Qual è stato il segreto di questa stagione? Ma credo siano stati in realtà due sono stati gli stessi secondo me delle due promozioni precedenti il primo fattore è quello tecnico cioè una squadra costruita con degli equilibri ben precisi con pochi punti deboli evidenti e quindi è una squadra comunque anche se ovviamente inferiore alle prime 3-4 della classifica comunque in grado di giocare a pallavolo in tutte le circostanze cosa invece che molte squadre costruite con criteri diversi hanno dimostrato di non essere in grado di fare e l'altro sicuramente il nostro ambiente che pur arrivati in A2 ha mantenuto comunque dei connotati di familiarità di tranquillità che sicuramente ad allenatori e giocatrici abbiamo visto che giovano molto insomma per garantire un rendimento in campo poi che appunto non sia influenzato da fattori esterni e quant'altro ecco Stefano questa sera gara 2 ricordiamo le 20.30 nella palestra di San Giovanni in Marignano immagino insomma non faccio fare neanche un appello per il pubblico perché insomma so che vi seguo sempre in maniera davvero numerosa e importante come giusto sia per una realtà così importante del nostro territorio per quanto concerne ovviamente la pallavolo ma dico lo sport in generale appuntamento alle 20.30 però per tutti gli appassionati davvero perché qui ci si gioca davvero addirittura un ulteriore perché i salti sono sempre storici ma un ulteriore diciamo sarà un'ulteriore giornata che potrebbe entrare nella storia del club della pallavolo italiana perché insomma passare il turno così da matricola sarebbe sicuramente un risultato eccezionale ricordiamo in caso invece di sconfitta ci sarà gara 3 ci sarebbe e speriamo non sia così gara 3 domenica e si tornerebbe a Trento nella Tana della Delta Informatica Trentino esatto noi abbiamo avuto per tutta la stagione un ottimo riscontro di pubblico anche in virtù di alcune iniziative che abbiamo messo in atto soprattutto nel girone di ritorno arriviamo da due mini giorni di prevendita che sono andati molto bene chiaramente l'appello anche se tu dici che non sarebbe necessario io comunque lo faccio perché sarebbe molto importante insomma sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo avere stasera un palazzetto dello sport pieno ecco che potrebbe sicuramente darci dare alla squadra insomma una spinta in più considerando che la squadra già in questo momento sta vivendo una situazione di grande euforia insomma quindi sicuramente affronterà il match di stasera con la concentrazione giusta e la spensieratezza anche giusta abbraccio sciolto anche perché quello che doveva essere raggiunto è stato raggiunto e adesso diciamo sono tutte ciliegine che si aggiungono alla torta esattamente senza alcun patema però sicuramente un pubblico folto e consono diciamo a questo appuntamento veramente storico perché stasera ci giochiamo l'accesso a una semifinale promozione alla 1 che ci vedrà poi coinvolti insomma in una sfida molto molto vicina col volley pesaro penso che insomma un palattetto pieno questa squadra lo meriti stasera ecco sicuramente io infatti dicevo perché insomma l'appello è giustissimo e lo sottoscriviamo però insomma una partita del genere a una partita del genere un appassionato di pallavolo del nostro territorio non può proprio mancare ecco in questo senso era questo il senso tra l'altro abbiamo anche avviato quest'anno una bella collaborazione tra la Battistelli e Icaro TV con la trasmissione delle partite interne del giornale di ritorno insomma sono andate anche molto bene anche insomma come ascolto abbiamo avuto degli ottimi riscontri quindi insomma c'è interesse per queste ragazze che davvero ci stanno facendo sognare grazie Stefano in bocca al lupo a tutta la squadra crete grazie a voi in bocca al lupo poi ci risentiremo nei giorni prossimi sperando che si continui andando avanti e quindi che si possa parlare ancora di volley giocato e non di bilanci esatto quello diciamo è la prima cosa noi intanto già stiamo analizzando il bilancio di questa stagione proprio per farci trovare pronti fra pochissimi pochissimi giorni pochissime settimane nella programmazione della nuova stagione insomma che sarà sicuramente di A poi non aggiungiamo niente esatto esatto esatto